Il referendum è alle porte. Poche ore e si saprà se la Scozia rimara parte della Gran Bretagna. A Londra c'è molta attesa per un risultato che potrebbe portare grossi sconvolgimenti. Dal nome del paese, che potrebbe non chiamarsi più Regno Unito, al petroglio, il 91% dei pozzi petroliferi andrebbero alla Scozia. Cameron poi sarebbe forse costretto a dimettersi dal governo, nel caso prevalessero i sì. In Inghilterra sono 754.000 gli scozzesi residenti e che non avranno diritto al voto. Tra questi vi sono i membri del London Scottish Regiment, un'unità dell'esercito britannico. Ci sono i nostri caratteri, nazionalità che rendono un migliore e migliore. Da i positivi, la politica ha diventato interessante, la politica ha diventato personalizzata, i nostri ragazzi stanno attraverso, i nostri ragazzi stanno attraverso, i nostri ragazzi stanno attraverso il risultato di sconvolgimento. Ci sono i nostri ragazzi, 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 i nostri ragazzi stanno attraverso. Sì, se vanno a votare sì, saranno davvero indipendenti. Non saranno parte di unikente del UK, non saranno parte di unikente dell'Europa. Sanno saranno in loro. Se questo è quello che vogliono, allora io saluto loro e i supporto loro in ogni modo che possono. Io, personalmente, cerco di unikente delle forze. Se è un voto sì e io unikente delle forze unikente delle forze, allora vedo che sono un scottino che si chiama in un'armi che non vuole più difendere la scottina. E' difendere un set di ideali più inalimenti con l'Englande, e il resto del UK. I ragazzi inglesi, invece, su questo possibile distacco dalla Scozia, la pensano così. Come un paese, penso che sia incredibile che possiamo guardare questa cosa. Ho venuto solo a Londra, da Catalonia, e la loro attitudine, e la loro attitudine. Penso che sia incredibile in generale che possiamo guardare questa cosa. Se ero in un'altra parte dell'Englande, se ero o se fosse un'altra parte, penso che mi affronta. Ma come da Londra, non penso che il risultato è massimo che mi affronta la mia vita. Penso che c'è tanto in il mondo a momento che tutti dovrebbero essere sticciati. E come dicevo, penso che dovrebbe essere molto scurato se si vede avanti a loro attivano. Penso che dovrebbe essere difficile per loro in l'anno prossimo. Non è veramente la mia decisione, la scottina di cui ha deciso. Penso che la scottina di partecipare, ma penso che sia positiva perché non e che il governo conservatore è in potenza, che sono demonizzando i pochi, e che rappresentano i interessi dei pochi, quindi credo che sia una cosa positiva per arrivare a questo governo. Penso che potrebbe essere positiva, nel senso che... se la cultura scottica diventa più solidificata in e di loro, in un'esplosione politicamente. Penso che questo è interessante. Tutta l'Europa, non solo Londra, aspetta con suspense, un esito che può avere ripercussioni su tutto il continente.